I bear market, le fasi ribassiste del mercato di bitcoin e delle cripto possono spaventare ma in realtà è laddove si nascondono le migliori opportunità perché tutto il rumore si dissolve, tutta l'euforia viene lasciata da parte i prezzi si ridimensionano e quindi viene da sé che se uno ha una visione lungimirante appunto di lungo periodo non orientata alla mera speculazione di breve caspita è lì che trova le migliori opportunità, è lì che trova il momento migliore per andare a costruire posizioni, costruire strategie e imbastire un bel investimento però ovviamente non bisogna fare degli errori perché ci sono alcune tipiche cose che vengono fatte soprattutto dai principianti durante le fasi ribassiste e questo li porta inevitabilmente a realizzare delle perdite questo è il motivo per cui le fasi ribassiste sono proprio quelle situazioni in cui si vede la grossa differenza tra chi sa operare nella maniera giusta che va a costruire posizioni, va a comportarsi in un certo modo e profiterà nel lungo tempo e chi invece non si sa comportare fa panic selling, fa delle mosse sconsiderate, affrettate e poi perde soldi. Quindi oggi vediamo proprio in questo video le 5 cose che bisogna fare e non fare durante le fasi ribassiste Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti iniziamo con una bella domandozza secca quanto siete spaventati dalla situazione attuale di bitcoin? rispondete sinceramente nei commenti e ditemi anche come vi state comportando e cosa avete intenzione di fare durante questa fase ribassista io nel frattempo vi dico le 5 cose da fare e non fare a mio parere la prima è quella di andare a cercare i gambling, le shitcoin, quelle scommesse quelle farm strane che danno migliaia di punti percentuali di APY perché le fasi ribassiste sono proprio quelle fasi in cui si minimizza la probabilità di successo di un'operatività del genere se è vero che durante un bull market basta comprare qualcosa a caso e 9 volte su 10 realizzi un guadagno nel bear market è esattamente il contrario nel bear market bisogna essere estremamente selettivi sui propri acquisti e sui propri investimenti e lo stesso vale nel mondo della DeFi nel bear market purtroppo c'è meno tendenza a fare quello che in gergo viene chiamato APIN ovvero andare a correre dentro quelle farm ad altissimo rischio proprio perché la tolleranza al rischio media delle persone si abbassa quindi queste farm fanno più fatica a sostenere questi APY non vengono minimamente considerate e poi nel tempo scompaiono quindi o fanno dei ragpull veloci quindi scammano subito oppure durano veramente poco e comunque non pagano abbastanza per andare a giustificare il rischio che ci si prende lo stesso vale per le shitcoin se voi adesso andate a vedere tutte le varie shitcoin di cani, gatti, zoo e simili vedete lo stesso grafico ripetersi se nella fase di bull market c'è stata quell'estensione ingiustificata perché sono tutte coin con zero fondamentali non appena l'euforia viene portata via chi ha organizzato un po' tutta la situazione dumpa ovviamente per realizzare i suoi guadagni perché non è che loro fanno queste shitcoin per il vostro bene mentre chi cerca ancora di raccattare qualche guadagno perché è l'ultimo arrivato si prende purtroppo il dump in faccia quindi il mio consiglio è di evitare come la peste durante le fasi ribassiste del mercato quelle operatività di gambling sulle shitcoin e in generale ad elevatissimo rischio perché la loro probabilità di successo è veramente minimizzata seconda cosa da non fare assolutamente sovresporsi sulle altcoin questo è un mantra che io ripeto molto spesso perché nel lungo periodo avere una fetta di portafoglio spropositata esposta in altcoin magari per breve termine si ti può portare a un guadagno importante quando si ha il bull market e l'alt season contemporaneamente ma poi sul lungo periodo punisce punisce veramente tanto perché se guardiamo i grafici in questo proprio periodo storico che stiamo vivendo c'è il rischio di una concomitanza di eventi che è il bear market di bitcoin che sembra già innescato e sembra voler andare avanti ancora un po' e in seconda battuta il bottom della bitcoin dominance il che vuol dire che potrebbe iniziare un trend rialzista bitcoin dominance rialzista significa che le coppie altcoin bitcoin vanno giù il che significa che le altcoin subirebbero una perdita doppia da bitcoin che cala contro il dollaro e dalle altcoin che calano contro bitcoin quindi avremmo veramente una fuga di capitali dalle altcoin pazzesca e andare a cercare quelle situazioni di ingresso forzato nelle altcoin perché magari le abbiamo viste calare parecchio potrebbe essere veramente un'arma a doppio taglio quindi in sostanza bisogna concentrarsi meno sulla ricerca furiosa dell'entry sulle altcoin perché per quello poi ci sarà tempo quando lo scenario sarà più favorevole sto parlando ovviamente di speculazione perché per l'investimento a lungo termine ci sono delle logiche leggermente diverse di cui parleremo tra poco ma anche lì vale il discorso di non avere un portafoglio full alt altrimenti veramente è una montagna russa totale se vedere un meno 90% sull'intero portafoglio non fa certo piacere e non è lungimirante da investitore mentre va bene, va meglio anzi concentrarsi sulle coin principali sulle coin sulle quali si vuole investire quindi bitcoin, ethereum quelle ecco che noi vogliamo portare con noi nel lungo termine che rispondono alla domanda ma quali coin hanno dei solidi fondamentali sono affermate, hanno dimostrato e sicuramente sopravviveranno e cresceranno nel lungo periodo quelle sono le coin sulle quali ci si deve concentrare molto meno sulle altcoin che invece sono molto più soggette alla speculazione terza cosa da non fare assolutamente sono i buy the dip alla cieca cioè vediamo una candela rossa e siamo tutti a urlare saldi, saldi, saldi compra, compra tutto, compra bitcoin, compra ethereum, compra qualsiasi cosa perché? perché un bear market se diventa tale potrebbe durare anche parecchio tempo e quindi se ogni volta che c'è una candela rossa, che c'è un dump dobbiamo comprare va a finire che non è proprio ottimizzata come strategia non è un piano d'accumulo perché non abbiamo la nostra frequenza predeterminata andiamo, non lo so, navighiamo a vista in base all'emotività e questo è assolutamente male e inoltre andiamo continuamente a realizzare perdite su perdite perché ogni buy the dip, se poi c'è un'altra dip più profonda capite molto bene che non è cosa quindi anziché fare delle mosse così sprovedute e date puramente dall'emotività perché il buy the dip va bene ma nei bull market cioè quando il trend è rialzista ci sta che se c'è una correzione abbastanza importante soprattutto allora andiamo ad approfittarne per prendere posizione ma deve sussistere alla base l'ipotesi di uptrend ipotesi che purtroppo al momento non sembra sussistere perché la struttura si è invertita, insomma ne abbiamo già parlato nel vedere l'analisi dei grafici in queste situazioni semmai potrebbe aver più senso fare il contrario ovvero se si ha delle posizioni su bitcoin proteggerle magari con qualche copertura avevamo fatto un video dedicato tra l'altro proprio sul come proteggere il capitale durante i bear market senza andare full short che anche quello è un'operatività rischiosa dedicata a chi mastica molto bene il trading ma ci sono appunto alcune operatività mirate alla difesa durante le fasi ribassiste che con relativa tranquillità permettono di affrontare la situazione riducendo le perdite ve l'ho detto, ve ne ho parlato in un altro video ve lo lascio magari qua linkato il danno diventa catastrofe se il buy the dip lo si va a fare addirittura sulle altcoin perché le altcoin in un giorno sono capaci di farti anche un meno 20, meno 25% e anche se fanno un dip magari il giorno dopo, due giorni dopo sono capaci di farne un altro quindi veramente li rasenteremmo il gambling quarta cosa a cui fare attenzione stavolta riguarda rendite passive e farming le rendite passive diventano una delle fonti di guadagno più interessanti durante le fasi ribassiste proprio perché alcune di esse non espongono alla volatilità di alcune coin di bitcoin, delle altcoin e quant'altro quindi sto parlando ovviamente delle rendite su stablecoin che siano cefai o defai in entrambi i casi bisogna ricordarsi che siamo in una situazione di rischio particolare perché se la piattaforma cefai che stiamo utilizzando è una di quelle poco raccomandabili tra virgolette allora in queste situazioni di bear market è proprio lì che c'è il maggior rischio che diventi insolvente ed è proprio per quello che è sempre importante selezionarle con cura abbiamo fatto parecchi video dedicati proprio a questo nella defai vale la stessa cosa perché se da un lato utilizzando le defai sicure quindi quelle più blasonate con i maggiori volumi curva, ave, compound eccetera non corriamo rischi di andare a perdere capitale tuttavia magari il rendimento è estremamente basso perché gli APY tendenzialmente nelle fasi di bear market vanno ad abbassarsi in particolare se sono pagati nei token in questione della piattaforma in questione se il rendimento è pagato in Matic o in token Aave o in altri token e quei token sono in pieno bear market gli APY stessi tenderanno al ribasso quindi bisogna andare a fare anche lì un bilanciamento tra i rischi e i rendimenti quindi per concludere per quanto riguarda farming rendite passive e simili orientarsi laddove il rischio è contenuto e la volatilità è contenuta quindi cefai e defai blasonate pool di stablecoin oppure anche volendo quei pool tra le principali cripto e stablecoin in questo caso si possono anche utilizzare come forma di copertura perché se anziché essere esposto al 100% alla coin in questione io mi tengo in un pool metà e metà la perdita dovuta al calo della coin in questione sarà ovviamente minore però bisogna fare i conti anche con la impermanent loss quindi quella si va ad aggiungere alla potenziale perdita ed è maggiore tanto è maggiore l'oscillazione della coin in questione dal momento in cui metto liquidità al momento in cui la tolgo bisogna quindi fare due conti a seconda dell'esposizione che si vuole avere e poi andare a bilanciare il rendimento del pool in cambio della potenziale perdita data da impermanent loss e dal bear market ok? questi sono i fattori che entrano in gioco evitare sia le cefai che le defai a elevato rischio quindi quei pool nati ieri che se già durano poco di loro nelle fasi di bear market durano ancora meno e le probabilità di guadagnarci come abbiamo detto prima sono minime cefai stessa cosa i periodi di bear market sono i periodi di maggior rischio di insolvenza anche le pool tra stable coin magari un po' esotiche anche con degli APY molto alti anche su piattaforme sicure attenzione perché quell'APY lì viene in secondo posto rispetto alla potenziale volatilità delle coin stesse perché se l'APY è del 70-80% ma quelle coin lì ti fanno un meno 30% in un giorno hai voglia poi andare a recuperare quella perdita quindi attenzione a non farsi abbagliare da queste cose se c'è un momento in cui bisogna stare a basso profilo ridurre il rischio nella sezione rendita cefai e defai è proprio quello dei bear market quinto punto nonché ultimo e più importante se io voglio sfruttare questa situazione questo bear market questa fase un po' più tranquilla un po' meno euforica per pianificare costruire un bel investimento razionale come faccio? cosa devo fare? beh allora innanzitutto stai partendo con la mentalità giusta se la pensi così e se sei arrivato fin qua in fondo fai esattamente quello cioè approfitta di questo momento che è di minore euforia quindi anche psicologicamente si ha meno fomo come si suol dire quando il mercato sale si sente quel bisogno di entrare il prima possibile adesso non è così quindi uno ha più tempo per studiare per prepararsi inizia col capire bene come funziona questo mercato cerca di capirne il livello di rischio cerca di inquadrarlo nel tuo portafoglio e cerca di capire quanto ti ci vuoi esporre non è che uno arriva e dice voglio investire in cripto bene fa un bonifico e compra questo è operare a caso non fare così quello che devi fare è ragionare facendoti tante domande quindi che portafoglio voglio avere quanto voglio espormi in cripto quanto tollero la volatilità sono disposto a vedere certe fluttuazioni nel mio portafoglio consapevole che sto investendo nel lungo termine eccetera 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 se la risposta è sì ci sono tante metodologie che abbiamo già affrontato in maniera concreta in altri video passo dopo passo come i classici piani d'accumulo le varianti dei piani d'accumulo l'importante è che non è che vedo il bear market e scappo in preda al panico dicendo oh mio dio cosa succede è finito tutto no anzi io sono più contento paradossalmente perché continuo la mia strategia non deve cambiare cioè devo avere una strategia che prevede le fasi di bear market fan parte del gioco non è che facciamo per 10 e poi rimaniamo lì cioè il bear market fa parte del gioco se vogliamo goderci i per 10 dobbiamo anche saper sopportare il meno 60% è fatto così bitcoin è fatto così è la sua natura e quindi noi continuiamo con la nostra strategia che ha incorporato queste stesse cose e tranquilli andiamo a pensare a come saranno le cose ce le immaginiamo tra 5 10 15 anni perché investire vuol dire questo vuol dire trasformare la liquidità inutile altrimenti in un asset che secondo noi si può apprezzare quindi bisogna ragionare sulle quantità sull'esposizione e sulla tolleranza vi lascio a proposito in descrizione il link a un excel tanto desiderato dove potete andare a simulare i ribilanciamenti perché il ribilanciamento è fondamentale nelle fasi di bear market io lo trovo fondamentale anche nelle fasi di bull market ma in quelle ribassiste ancora di più perché ci aiuta a fare delle operazioni senza stare a pensare troppo a cercare di fare timing ovvero io vedo il peso delle varie componenti del mio portafoglio ogni tot e lo ribilancio per ritornare alla mia situazione iniziale se volevo espormi al 10% in cripto e il resto in liquidità perché sono super basso rischio lo continuo a fare e così mentre il prezzo scende io mi espongo in cripto e viceversa farò take profit quando il prezzo sale è un po' un'ottimizzazione e nel file che vi lascio è un google sheet quindi potete andare a inserire un paio di dati per provarlo e vi fa la simulazione di ribilanciamento è molto semplice da usare me l'avevate chiesto spero che vi basti e vi interessi quindi questo è un po' quanto inoltre dal punto di vista del farming delle rendite passive si può utilizzare anche queste ultime per andare a portarle nel comparto investimenti cioè se durante la fase ribassista noi ci concentriamo sulla liquidità perché anche quella si può far rendere nelle cripto come ben sappiamo abbiamo detto defai e cefai quest'ultima cresce quella parte che cresce poi di volta in volta sempre col nostro ribilanciamento la portiamo di là e la rendiamo un investimento quindi il potenziale della rendita sulle stable coin che viene ovviamente data in stable coin durante i bear market se noi prendiamo la rendita e poi in parte la investiamo di là capite che aumenta ancora di più perché se poi parte un'altra fase rialzista ci frutterà molto più di quel 10-12% che le piattaforme di cefai stesse ci possono dare questi sono tutti concetti che spero vi siano utili per rifletterci sopra e spostare il focus ripeto dal guadagno sul breve dal breve termine dalla speculazione a un qualcosa di più ampio respiro perché se si riesce a essere tranquilli in queste fasi ribassiste non aver paura di realizzare una perdita perché tanto la visione è sul lungo periodo secondo me lì è la svolta ed è lì che fa la differenza tra l'ultimo arrivato che compra quando tutto pompa e si impanica quando tutto scende rispetto all'investitore con la I maiuscola che ha pieno controllo del suo portafoglio con questo vi faccio un caro saluto e alla prossima